A me mi hanno qualificato, da una parte mi hanno detto Giacinta Auridi è fascista, dall'altra parte mi hanno detto Giacinta Auridi è comunista, allora io tengo a precisare che io sono per la proprietà popolare della moneta, se per questo si intende come alcuni mi hanno detto essere fascisti, io sono fascista, se invece come altri mi hanno detto significa essere comunisti, io sono comunista.